L'Avvocatura dello Stato, o il dovere di sottolinearlo, dipende solo sul piano strutturale dalla presenza del Consiglio dei Ministri, essendo indiscusse l'indipendenza e l'autonomia funzionale tanto dell'Istituto quanto di ciascun avvocato nella propria attività di ordine tecnico-professionale. Quindi mi rivolgo a voi tutti, Avvocati e Procuratori dello Stato, per ringraziarvi per la vostra fondamentale funzione, anzitutto nella difesa delle amministrazioni dello Stato, che non può essere assunta solo su un piano meramente giurisdizionale. In considerazione della natura dei soggetti tutelati, della pluralità dei giudizi dei quali si svolge, della natura pubblica del medesimo Istituto e della sua indipendenza tecnica, è in realtà un'attività, lo dico tra virgolette, giustiziale, altrettanto essenziale, consentitemi di sottolinearlo, è la consulenza che prestate alle pubbliche amministrazioni, consulenza spesso volta a prevenire potenziali contenziosi. È una funzione necessaria a un corretto svolgimento dell'azione amministrativa, non a favore dell'interesse contingente, parziale della singola amministrazione, ma a tutela degli interessi pubblici generali, anche in questo caso nel rispetto del principio di legalità.